Sono 63.837 i positivi al covid accertati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, di cui 4.377 in Sicilia. Contemporaneamente però a livello regionale si è registrata una percentuale del 21% in meno sulle quarti e dosi di vaccino eseguite sui cittadini considerati a rischio. I numeri parlano di 14.471 quarte dosi somministrate dal 20 al 26 luglio, con una media giornaliera di 2.614 somministrazioni. Rispetto alla settimana precedente si registra una diminuzione di 3.859 vaccinazioni. Nella settimana che va dal 18 al 24 luglio i nuovi casi di positività in Sicilia sono stati 40.926, con una diminuzione del 27%. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Grigento, Siracusa e Trapani. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni, tra i 60 e i 69 anni e tra gli 80 e gli 89 anni. Anche i nuovi ricoveri sono in lieve diminuzione. Per quanto riguarda la provincia nissena, nelle ultime 24 ore sono stati 222 nuovi casi di positività al covid, tutti in isolamento domiciliare. 70 sono di Gela, 52 di Caltanissetta, 33 di Niscemi, 12 di Riesi, 9 di Mazzarino, 9 di Sommatino, 6 di San Cataldo, 5 di Serra di Falco, 5 di Villalba, 4 di Butera, 4 di Delia, 4 di Mussomeli, 3 di Milena, 2 di Vallelunga, 1 di Bonpensiere, 1 di Resuttano, 1 di Santa Caterina e 1 di Sutera. Ricoverati in degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta e 1 di Niscemi. Dalla degenza ordinaria sono stati dimessi due pazienti di Gela e uno proveniente da fuori provincia. Dal covid sono guarite 266 persone, 86 di Gela, 79 di Caltanissetta, 32 di Niscemi, 14 di Mazzarino, 12 di San Cataldo, 7 di Sommatino, 6 di Santa Caterina, 5 di Butera, 5 di Mussomeli, 4 di Campofranco, 4 di Milena, 4 di Vallelunga, 2 di Marianopoli, 2 di Montedoro, 2 di Serra di Falco, 1 di Bonpensiere e 1 di Delia.